Allora oggi è sabato 28 gennaio del 2017, sono in Cina e stiamo festeggiando il Capodanno perché qua è il Capodanno cinese e a cena non abbiamo bevuto acqua e neanche vino, abbiamo bevuto solo brandy e quindi comprendete anche il modo in cui siamo a tavola e vorrei farvi vedere le persone che mi stanno ospitando, quindi prima di tutto Daniele che mi ha invitato. Questo è il mangiare e qua vogliono sempre bere, bere e fumare e quindi voglio ringraziare Dio per questo momento meraviglioso, veramente mi sento a casa ed è un momento straordinario, un momento meraviglioso, ora stiamo quasi per andare in strada a smaltire un po' di, diciamo, tutta la cena che abbiamo mangiato, tutto l'alcol che abbiamo bevuto e il fumo che abbiamo fumato, qua non smettono mai di bere e per non fare brutta figura bisogna adeguarsi e diciamo che hanno trovato, insomma, un buon ospite da questo punto di vista. Daniele, dì qualcosa, Daniele. Dico in cilese o in italiano? Italiano. E che vuoi che dica? E che non so, sei obbligato? No, non ancora. Spero di invitare altre persone in Cina per fare un deja vu di questa esperienza fatta in Cina. Dico qualcosa in cilese. Dico qualcosa in cilese. È il Capodanno, è il Capodanno quindi stanno festeggiando. Un bacione a tutta l'Italia, a tutti coloro che seguono. Ciao.